E' una bella responsabilità, quindi sono tutti qui solo per sentire la bella mano. Io brevemente vi presento, allora Elena Reis, ho 39 anni, sono di Vercelli, come lavoro sono un personal trainer, ormai la figura è comunque ormai riconosciuta, professionale e lavoro qua a Vercelli, lei è una mia allieva e niente, tanti mi chiedono perché vuoi fare la bella Main e la risposta seria ce l'ho dentro di me, perché a tutti non posso sicuramente dare la stessa risposta perché ho sempre un po' paura del giudizio degli altri, però io so una cosa certa che ho proprio bisogno di restituire qualcosa alla mia città, punto, tutto quello che vuole dire, nel senso che io ho qua la meraviglia, l'istruzione l'ho avuta qui, il mio lavoro è stato qui e qui e a me piace Vercelli, io amo Vercelli, mi sembra una cosa anche sciocca da dire, però è così e quindi rappresentare la bella Main significa rappresentare la mia città e quindi questo per me è il cerchio e sono felice di questo, quindi non sarò mai assessore, non sarà mai un sindaco, no, 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 però mi voglio fare la bella Main, porteremo della qualità, porteremo della tanta qualità, io lascerei volentieri, da subito, la qualità di questo tipo, no, tengo in forma le persone di Vercelli, sono in forma anche grazie a me, e questo, voglio fare la bella Main per questo e poi so perfettamente che sarà un impegno pazzesco perché quando mi avete dato i programmi degli anni precedenti ho visto mesi con giorni veramente ricchissimi di impegni, però quando leggevo asili, scuole elementari, scuole medie, case di riposo, ho detto sì, è quell'ogno e poi Giulio Pretti, Cesare Losa, pian pianino ho avuto l'imprinting un po' con tutti, quindi un po' di comitato, Toni e Andrea un altro giorno, l'altra volta quando sono andata al comitato e poi l'ultimo incontro con il sindaco. Direi che il più bel discorso che potesse fare la bella Main.